La finale di ritorno si avvicina, l'ansia monta, perché quella col Cagliari è la madre di tutte le partite, quella che potrebbe permettere di cancellare con un colpo di spugna 12 anni di delusioni, falimenti, retrocessioni, tradimenti, vergogne. Bari ha voglia di esplodere e gridare tutto il suo entusiasmo. Tifosi comuni, sportivi, ma anche club, al San Nicola ci saranno davvero tutti. L'ansia terminerà non appena finirà la partita. Io mi vedo il traguardo vicino agli occhi, però finché non superiamo quella linea, il pallone sembra come giovedì scorso che non entrava. Io l'aspetto da 12-13 lunghi anni. Speriamo che il nostro sogno sia veri. Non voglio immaginare il contrario. Qualcuno trattiene a stento l'emozione, la grinta, perché bisogna aspettare domenica sera. Ed è giusto così. È da tanto, troppo tempo che aspettiamo di tornare su un palcoscenico certamente più adeguato al blasone di questa piazza. Per cui ce lo meritiamo. Siamo a un centimetro dal traguardo, però dobbiamo stare attentissimi perché la partita di domani è veramente molto complicata. 90 minuti di partita che in realtà sono solo il secondo tempo di un doppio confronto apertissimo, ma tutti, proprio tutti, vogliono riscrivere la storia affinché il sole possa tornare anche qui, a Bari. Dobbiamo far paura ai cagliaritani, nel senso paura però con cori fischi. Li dobbiamo fischiare, ragazzi. Domani dobbiamo essere il dodicesimo uomo in campo in tutti i sensi.